Si prova Tutti i morning! You speak English! Sai tu! Solo chissà sai! I fusilli con un buco Quando succo Succo un buco Succo un buco Io non succo un buco Cosa hai messo nel caffè? E' una figlia che vuoi cantare E poi la canta A due A due Almeno viaggiamo bene Anche con Sacalangia Noi vogliamo cuccarlo magno Due cellule Serafe Due caffè Due caffè Due caffè Allora scusate Faccio un appello a tutta la popolazione del mondo Ho potuto prendere un caffè 5 ce n'hai portato Perchè fai questo pantaloncino nero? Eh perchè gli hai detto Mi salta sopra quando guido Ti salta sopra e mi dici le scarpe Mi sono mangiata la sorgente E si cretino Non puoi fare pubblicità Capito? Almeno almeno un uomo Facete pagare Scusate sorgere Non lo fare pagare Ti faccio pubblicità Mi assai un uomo Non ti faccio pagare Non scusate Se no ti taglio E' giusto Allora il cammine ha cominciato Qui oggi siamo all'atterrenia All'atternnrrrrr Cacciono la mano a questo porco Guardate Guardate quali cuscinano Un paquet Venite Lo scendano E li faccio scendere su Paspia, scendete signor, capitugno non li uno, venite, venite signor, uscite, vabbè ragazzi facciamo una cruce stamattina, iniziamo da qua, vi dico subito domani per chi ci segue saremo a Gizzeria da quelle parti, cambiamo spiagge, cambiamo, chi è qui di qui, abbiamo due mesi, grande Zio Pino, numero uno, ma ora dove fai? Io Zio Pino purtroppo facciamo gli autisti dopo 30 anni, ci fanno portare l'ombrellone, un lido che non faccio il nome perché non ce l'hanno dato, veramente, andiamo a parcheggiare, chiamalo Bruanz, chiamalo Bruanz, ma come vanno fatto, non ce l'hanno dato l'ombrellone perché, ma questo è colpa del comune, questo è colpa il comune, è colpa della borsa, è colpa della borsa, li ribellatevi, è suca, buongiorno, che ha portato un po' di galleria, se no poi tutti morti, parlo, 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 parlo in un cimitero, scherziamo, come state? Bene signora, lei mi ha seguito in questa, in questa, in questa, grazie ai medici del Policlinico di Monza, proprio questa che parlava bene dei medici di fuori, no su Calabrese, Calabrese che sono a Monza, quindi le eccellenze che sono a Monza, dottor Pierpaolo, grazie signora, quanti siete, che bella comitiva ragazzi, veramente è una bella comitiva veramente, perché vi ripeto, i giovani dormono a quest'ora, perché ancora è preso, però noi, siccome, non mi guardano pure la salute, a Leone, su 50 gradi, ne scoppia anche uno, è vero signora, come state? Buongiorno, ecco qua, e perché vedi? Poi non è vero che non si fanno figli, è vero, giusto? Per piacere molto, perché guardate qua, hai contato 70-80 bambini a famiglia, giusto? Una testa, una testa, lei di dov'è? Malvito, e voi? Buongiorno, come state? Tutto bene, ecco, si guardano i figli, adesso le moglie, e le moglie parla nel telefono, guarda, scusa, 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 allora, ma è cambiato il mondo, è cambiato, beh, passami, chi è il suo marito, chi è? Ha detto tutto casi tante volte, se poi me le fa a parlare, chi è? Pronto? Chi è lei, scusa? De Seta Luca, Luca De Seta, ok, grazie, perché? Ah, l'intervento che avevo, no, tutto bene, a Monza tutto mi hanno guarito, ma non ti hai fatto tutto, ma c'è, no, non ti hai fatto tutto, grazie, grazie signora, grazie, grazie, allora, ragazzi, fatemi un tuffo, signora, fatemi un tuffo, vabbè, divertitevi, allora un consiglio che vi do io, ma faccio spassionatamente, perché luglio è un mese che il sole pare congelare, signora, ma vi brucia, mentre una poca crema, signora, eh? L'ha messa la bimba, ma pure lei perché non si brucia, no, dove è suo marito? A casa, e lei che fa qua, scusa, bene, che fa e lei che fa qua, scusa, no, siamo insieme, ah, siamo insieme, e da un marito e ragazzi che stiamo insieme, e come si fa, scusa, come è? Sì, mia moglie, ah, c'è, dove è sua moglie? Sì, dove? Sta preparando la mangiata, allora, è chiaro, un marito già, la moglie sta preparando la cosa, è subicino, eh, che scherziamo, che scherziamo, scherziamo ragazzi, eh, per amore del cielo, se non ci scappare un uomo il tuo uomo, che ci fai, cominciate da un uomo, quando ho cominciato, ando a me crede, con un capito di più brutto ancora, vedi perché, scherziamo, ecco qua, abbiamo, abbiamo un capitano, buongiorno signora, di dove è lei? Eh, io sono bisignano, lei sta bene, sì? Eh, grazie a te, grazie a te, grazie a te, e che fa di bisignano lei? Ma io mi sono pensionato, e se pensi a me, adesso, e mi guado la pensione, se la guado, se il signore mi ci vuole, bravo, se il signore, ma come mai questo look da capitano? Eh, io sono, ho la barca qui a Centrare, ah, buongiorno, ah, sì, e lei che fa con la barca, quindi va a pescare? C'è una gita, Civitta Vecchia, Sardegna, con la sua barca? Sì, o sta buono, che tu ti vuoi? Eh, come, Civitta Vecchia, anche la sua barca ha terminato circumstances non c'è mai bischio. Francia, in realtà, Spagna, Portagallo, c'èeeh, se la mia máspirita è,e che ti vuole, parte, fate qué? Eh, sì! Quale è Civitta Vecchia? Dunque, mi dica... minuti. A Roma, Civitta Vecchia.Cappisco, ma mi dica, come fa la nave, no? Come navi che? La pruva? Qual è la pruva? C'è unaторra con la... E la la poppa qual è? con sterzo guardavo la signora un bel satello stamattina che stai scherzando stai scherzando stai scherzando mi canta una canzone c'è un premio per lei quando lei naviga nei suoi sogni proibiti quale canzone canta? c'è subito un premio per lei un mazzolino di fiori che viede la montagna approvete il pubblico e vaga bene vaga verga non si bagna lo voglio regalare alla mia bella questa sera quando viene vi è piaciuto fai vedere un po' il pubblico che portano un po' d'allegria su questi spiaggi sindaci cercate di portare qualche animatore viaggiate su Google cercate di inventarvi qualche cosa è vero signora? si è vero la maglietta venga venga allora tenete qua caccia 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 la plastica capitano dove sei qua? chi ne sa? Palomarano che belle magliette veramente vedi qua è bella si fa freddo? si? si fa freddo? andate qui guardaci andate qua andate qui andate qui andate qui abbussiamo noi addi dai che è bello ma la geriatria va cacciata su questi spiaggi le figlie dorme capite? i nostri figli sono grandi sposati sposate e possiate pure e niente rigorosamente è un vecchino che questa è la cosa bella poi qui abbiamo lei è faluziotto io sono tramviere di Milano sono nato in Calabria e vivo a Cologno Monzese io sono stato a Monzese a voglia ci sono di casa a Monzese e quindi lei è palaggiata ma palaggiata di Milano sono di Milano sono di Cologno Cologno Monzese a Cologno? a Cologno di Cologno no perché c'è una cosa c'è Mediaset e ci sono stati voglio ricordare ai nostri amici a casa che andate su stai dicendo hai fatto il canale 5 ho fatto la 6 l'ultima e dove è la via? e dove è la via? c'è su Irit dove è la via? Cologno Monzese via e non mi ricordi vada sul mio sito e vedi che ci hanno fatto una modella gigliotta è bravo sai cosa stai dicendo? l'hotel vicino noi abitavamo lì all'hotel a Cera Piazzetta a Cosa della Piscina sì allora vanno va di Milano va a fare il militare a casa allora a mamma da notte c'è chi è? sono me bussatotto sono me a mamma chi è? sono me ma come ti ha fatto ma perché non apri mamma sei partito d'autunno e tiri con gli amici sono me sono me ma parla tu di a lei sono me sono me sono me bravo bravo è sposato lei no no capisco 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 chi non lo può fare trambier trambier ma mi ha detto vieni a comprare va bene ciao grazie grazie in bocca al lupo noi scherziamo raga se no scherziamo scherzano letalmente 70-75 stavattina si dice però divertitevi però divertitevi è che stai scherzando signore beate le signore e signore per l'allegria che portate sulle spiagge per carità grazie signore ah no vi dobbiamo il succo vai bene vieni vieni che vi dobbiamo il succo aspettate signore 79 però ci siamo vicini ah ah vieni che dobbiamo il succo vieni che dobbiamo vieni signore ma pasta aspetta maria maria come si mi chiede a maria questa è cambiata già ha cambiato un pennaggio vieni una po' di pietra fitta basta poco e su che sai e su che sai grazie ma facemolo insieme che è bellissimo è un atto proprio ziatorio girate come è meo si è tosta ancora la salsa della nonna miccia forno ma c'è una mossa però allora la salsa della nonna uno dove c'è la salsa della nonna miccia a forno grazie signore grazie vieni vieni qua abbiamo un bel boy ecco perché sta girando vieni di dove è lei io devi segnalare che fai tu nella vita che fai tu nella vita fare la diretta con la mamma signore avete un bel figlio veramente veramente trovi una fidanzata che non ci soffri ciao grazie ragazze grazie grazie che gli diamo la macchinetta la signora se è vera la macchina prendiamo la mano dopo la macchinetta oh ehi no dopo sempre ti sei mamma mia a dove mi ha visto che mi segui è pure in giù portone a notte mi seguo a paura grazie 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 mamma mia ragazzi che cavolo che fa brutto buongiorno allora guarda qua guarda qua che pescina guarda qua oggi chi è maldita comunque signor Fortunato ragazzi attenzione vignero è il mare pulito è vero o no o no porto bene io ragazzi guarda che mare guarda che mare ragazzi qui abbiamo tre mamme e 780 bambini a di sui pace scusate perciò mi fa male il brazzo andate a casa dimenti signor Parato la volta ha capito mi fai portare a me non è e tu non vuoi detto niente ecco qua allora una signora che c'è come prendi prendi i miei prendi guardi i miei prendi la macchinetta c'è a me dame la macchinetta dame la macchinetta e basta e basta hai bevuto hai mangiato ha un bambino la macchinetta signora venga venga signora venga guarda qua si è sbracciata questo si muove sta signora vedi che c'è la macchinetta venga prendi la macchinetta una dei tre signora già i bambini mille bambini hanno fatto venga signora venga con un po' che mi bagna i pantaloni vieni tu vieni tu vieni tu mi viene con il costume ecco qua la signora lei è una signora nuova è una signora nuova complimenti signora ecco una bella macchinetta di caffè che gliela regalo ho tolto il come si chiama il prezzo no il prezzo è come si chiama il prezzo è la confezione caro Andone chi gliela regala questa maglietta questa maglietta di dove è lina ma chi gliela regala Pietro Red dei fratelli Red di Cerisano della Trondi di Red di Cosenza ma sei un grande Andone ogni tanto guarda il lavaggio capito perché i pescisti stanno facendo fuori a tutti a tappino a tappino che si te lave una poca capito ogni tanto l'acqua va bene lei mi ingrassata arriviamo brava la signora lei è sposata lasciami 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 hai capito complimenti per i suoi come si chiama tatuaggi grazie grazie signora mia grazie a lei noi cerchiamo per carità buongiorno mi le dà per ricordi allora Antonio si venite venite guarda che bella come ti vieni qua 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 lasciateci cantare no no va a prendere l'uncinetto no no tu come stai ti stai divertendo qua che cosa fai di bello il giorno è bell'arte ragazzi è l'arte allora diamo la paglietta alla signora io voglio cantare una canzone signora mia ma lei sai perché è esperta che si sta giocando tutta una carta veramente perché noi facciamo faremo anzi propongo un programma con gli artisti della ribatte se ce lo fanno fare se no allora cantiamo ci cantiamo io sono immacolata allora ragazzi fate un applauso rosina mia quando sei bella rosina mia chi è nati 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 a Ivan Greco la pubblicora la pubblicora e questa qua alla zia Lina allora a questo qua gli deve regalare una maglietta lei chi è scusa sono uno della spiaggia allora allora la mia blu no aspetta insegna lei che ha cantato la faccio cantare nace piano 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 calabri se la morire mi fa ti rullalle le lullalle le lullalle sacca la brisella morire mi fa lei lei allora il titolo si è cantato vabbè no no io faccio la sacca io faccio aprite le finestre cosentine quando erano topos aprite le finestre cosentine quando erano topos avete la pifine sbendata se la passi ti rullalle vabbè va bene ora che sul naso ci c'è allora dammi il succo dammi il succo vieni qua lavati tu approfitto approfitto ora me ne vado sto scherzando ragazzi grazie signorina scusi c'è un problema come è bella vieni ma tu in particolare tu sei un po' grattoso Serafeo vieni dammi qua allora signora no no chissà guardate 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 basta poco basta poco e succo pomodoro ma non ho i miei pomodoro buono basta poco e succo assaglio eh basta poco basta poco e succo buono assaglio assaglio va benissimo allora Corinanna io mi ci Corinanna buono signora Corinanna Corinanna allora ragazzi accompagnati una buona una buona giornata una buona giornata però mi fa torna che la chienatechitunni eh sì chienatechitunni che vi russina mia quando era bella chienatechitunni che vi e chi mi e chi minni che vi russina mia e chienatechitunni e chienatechitunni che vella no lo so che si è pregato tu provi a cantare una canzone? no accompagnami vieni non è alla mattina ma non è alla mattina ma cerchiamo di portare un po' di chiesa passi a spiaggia se no un di mobato vabbè quattro chiamone allora ragazzi a quando siamo quando siamo? ci puoi ci puoi ci puoi e Ginetta no non va niente il cane non va niente buongiorno signore com'è state? c'è un cane? c'è un cane? no la signora Lina voleva dire qualcosa lo sai per chiamare due? per far parlare uno come te a me a me a me ma che bello questo qui serve per fare il pandano il pandano il pandano il pandano è buono a me a me lei dove è scusa? io signor c'è un sangue che ha fatto cosa padre non è che sta morire da un cavolo che sta morire che è il suo marito no no è il suo compagno è il suo compagno siamo nenne siamo nenne siamo nenne hai un bello fisico sono trovato buongiorno signore come sta? come sta? tedesca tedesca? ah ragazzi buongiorno 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 era sversato ma aspettiamo un pochettino si può alzare che mette il microfono vieni no perchè hai parlato inglese? non 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 hai parlato nanna hai parlato inglese? nanna 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 le devo dare una cosa molto bella un premio le vorrei dare vuole fare un santo alla Calabria parloci tu parloci tu parloci tu un bel bicchiere di birra però si deve alzare eh 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 signor un bel bicchiere di birra però si deve alzare eh 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 vabbè vabbè chi la regala dopo dopo Carmelo Napoli Carmelo Napoli alla salute però non c'è la birra te la comprare 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 un attimo guarda l'acqua ciao ragazzi venite venite seguiteci 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 che sta facendo la diretta vabbè 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 scusami vabbè 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 di dove stai vabbè 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 però vabbè vabbè no no basta adesso basta basta non vale più direttore perché se no capito un saluto amico mio dai allora adesso basta ok se no la direttore la puoi fare un minuto però se tu mi fai direttore mentre faccio la trasmissione capito? no non se lo faccio la trasmissione ma la faccio la trasmissione? no ma non lo faccio la trasmissione si ma vieni con noi però no 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 se no poi tu lo pubblichi ma mi diceva capito? soltanto mi hanno una buffa capito? mi hanno una buffa poi vieni con noi segui la nostra trasmissione allora ragazzi quando abbiamo... aspetta mi salta l'abbiamo solo... e piglia dai piglia piglia la maglietta dove è? la maglietta dove è? andate dai c'è la maglietta vieni qua ciao bello vieni con noi vieni con noi no segui la trasmissione con noi senti qui che prendi il telefono ti chiedi in giro ma non ci credo aspetta 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 guarda dai mi baci apri la maglietta ti voglio bene dai allora ragazzi prima parte per il cagliano piano io sparo mare come è bello quanti anni hai? è 13 12 anni è germanico parli italiano? poco pochissima ti piace la Calabria? si a mamma tu le piace non le piace però... che lavoro fai lì? il pensionato oramai allora ragazzi facciamo una cosa scusa facciamo una cosa molto importante noi lo lanciamo anche perchè c'ho tanti tanti ragazzi tanti tedeschi calabrese che vengono organizzate che facciamo il premesso signore in Germania va bene? signore se vi è piaciuto dicete se vi è piaciuto facetevi i fatti vuoi domani alle 14.30 noi vediamo ciao grazie ragazzi ciao